È uno dei due comuni, insieme a Montecatini Terme, ad installare sul proprio territorio comunale le cosiddette Pietre d'Inciampo, un progetto europeo per tenere viva la memoria di tutti i deportati nei campi di concentramento e di sterminio nazisti che non hanno fatto ritorno alle loro case. Si tratta di un piccolo blocco quadrato di pietra, di 10 cm per lato, ricoperto di ottone lucente. A Lamporecchio sono quattro, a memoria di quattro deportati nei campi di sterminio che saranno posizionati nei pressi del teatro comunale nelle prossime settimane. Ogni pietra ne ricorda il nome, l'anno di nascita, il giorno, il luogo di deportazione e la data della morte. In Europa ne sono state installate già oltre 70.000, la prima colonia in Germania, nel 1995. L'occasione è la celebrazione del giorno della memoria del 27 di gennaio, la giornata nata per commemorare le vittime dell'Olocausto. Chi erano queste quattro persone? Allora, queste quattro persone erano quattro ebrei che vennero catturati, arrestati qui a Lamporecchio dai fascisti locali e dalla Guardia Nazionale Repubblichina. Si chiamavano Aldo Moscati, Giorgio Moscati, erano fratelli questi due, Enrico Menasci e il De Brando Trevi. Furono internati nel campo di concentramento di Fossoli. Da Fossoli poi vennero trasferiti ad Auschwitz. L'unico, fra l'altro, che si è salvato è Aldo Moscati, che ad Auschwitz trovò lavoro prima nel settore trasporti e cavi e poi trovò lavoro come aiuto infermiere. Fra l'altro Aldo Moscati ha conosciuto anche Primo Levi e mantenne l'amicizia con Primo Levi anche nel dopoguerra. Era un'iniziativa che oggi avremmo voluto fare direttamente nel posto dove posizioniamo le pietre, con le pietre già posizionate, le pietre di inciampo. Purtroppo la pandemia ci ha costretto a rinviare i prossimi mesi. Com'è nata l'idea? L'idea è stata su proposta della sezione di Lamporecchio e di Larciano. Abbiamo stato sposato insieme a loro questa iniziativa, che nasce anche sotto un protocollo che noi abbiamo già sottoscritto da diversi anni con Ampi, l'Associazione Orizzonti, l'Associazione dell'Accademia di Masetto e l'Istituto Historico della Resistenza di Pistoia. Ci è sembrato, stiamo già lavorando per la deposizione e la realizzazione di questo progetto.